Ciao a Betes.it, Domina, serie televisiva prodotta anche da Sky su Sky, Simon Burke in scrittura, La McCarty e Claire McCarty, David Evans e Debs Patterson in regia. 8 episodi di circa 50 minuti l'uno, non è il proto-latino ma è una proto-Roma ed è un proto-impero soprattutto, non c'è il proto-latino del primo re di Romulus, di Matteo Rovere, non è un'idea di raccontare il passato di una grande città che sarebbe stata una grande idea, una grande repubblica e poi un grande impero, Roma. c'è l'idea di fare una produzione in inglese con anche molte espressioni moderne, vestiti bellissimi di Gabriella Pescucci, quindi ci siamo anche noi e devo dire che mi sono abbastanza divertito. Sono altri episodi con Kasia Smutniak nel ruolo di Livia Drusilla ed è un film sul potere, sulle donne, sul potere delle donne, su questo passaggio delicatissimo a Roma tra Repubblica e Impero, ma facciamo un po' un viaggio nelle cose che mi sono piaciute di più di questi otto episodi in inglese, quindi appunto dimenticate l'approccio divertentissimo La guerra del fuoco con Jacques Hanno, molto duro di Matteo Rovere, molto anche commerciale dal Signore Gianelli in poi, quindi con una lingua misteriosa e sottotitolata che può essere l'elfico, può essere il napoletano di Gomorra e che abbiamo visto negli anni essere diventato molto commerciale. Quindi è un approccio commerciale però, un approccio commerciale più vecchio stile, quel tipo di idea di vedere gli antichi rimani che parlano inglese e quindi questa idea anche della lingua inglese e che automaticamente porta la cultura anglosassone e il nostro modo di essere moderni in una chiave inglese come lettura del passato e questo ha creato anche degli sconcerti, per esempio nel linguaggio, no? Ci sono dei fucking in questa serie che è ambientata appunto parlando di Augusto, Livia Drusilla, è ambientata proprio tra la morte di Giulio Cesare e la nascita di Gesù Cristo, quindi proprio è un passaggio epocale tra avanti Cristo e dopo Cristo, in mezzo a chi c'è? Bellissimo, no? Da un punto di vista simbolico, in mezzo a questo anche cambiamento del tempo e con questa figura di Gesù, no? Che segnerà, come sappiamo benissimo, per noi che sia che ci si creda, sia che non si creda al fatto che il Figlio di Dio ha un cambiamento per noi negli anni, no? Per la nostra storia, avanti Cristo o dopo Cristo. cambia proprio la numerazione e infatti cambia proprio anche il modo di contare gli anni. Livia si trova là in mezzo, però facciamo un viaggio, diciamo, nelle espressioni e nelle battute che mi hanno colpito di più in questi otto episodi, che non mi sono dispiaciuti affatto, dove vediamo loro piccoli e poi loro grandi, loro far l'amore, pomiciare da ragazzini, interessante... Grazie a tutti!